La risposta ai bisogni eccetera eccetera sia anche di tipo non esclusivamente sanitario o esclusivamente sociale, ma come dire, che possa abbracciare due metodologie, due discipline. Questa esigenza si rapporta a questo momento storico che il Paese sta vivendo, che non possiamo sfidare a crescere il proprio ruolo, la propria progettualità, la propria sensibilità a di sotto di 500 mila euro rispetto a un intervento. Nel 2012 parla di emergere i soggetti disabili posti in... Andiamo a vedere qualche orizzonte e all'orizzonte vediamo qualche cosa che si è mosso. Dallo scorso anno che cosa è cambiata? È cambiato lontano.